Raga, stasera abbiamo bistecca simmental, eccola qua, frullatura, 40 giorni, guardate che bellezza, è una delle razze più antiche al mondo, del fiume Simma, è spettacolare raga, ora andiamo all'assaggio, la metto in padella e poi andiamo all'assaggio, guardate che spettacolo raga, non l'ho mai assaggiata questa ancora, vamos! Guardate che bellezza raga, ora la lasciamo riposare, andiamo all'assaggio dopo, andiamo finalmente all'assaggio di questa bella bistecca di simmental, Raga, buonissima, orca miseria, proprio buona, nonostante ho fatto una cottura un po' più del sangue, un po' più cotta, ma rimane proprio soffice, ma veramente buonissima, veramente soddisfatto, proprio io, bistecca simmental, voto 10, voto 10, per me è spettacolare raga, detto questo, io la mangio, poi abbiamo anche un'altra bisteccona, e via con una buona cena a tutti, bella raga!